gentili telespettatori buona giornata sondaggio mentana svg sulla 7 effetto carro quando un partito vince c'è un effetto che chiamano i sondaggisti l'effetto carrozzone o l'effetto pecorone cioè la gente sale sul carro del vincitore squadra di calcio politica quando qualcuno vince tutti dicono io ho votato io ho vinto anch'io quindi l'effetto carrozzone si sta materializzando dove il partito che ha preso più voti ne prende ancora di più virtualmente e quelli che hanno perso scendono ancora di più questo l'abbiamo visto in tutte le elezioni che si sono viste andiamo a vedere andiamo a vedere intanto prima vediamo la come si dice la fiducia nei leader politici e poi vediamo le percentuali dei partiti allora il leader più amato vediamo che sarebbe sarebbe mario draghi intanto la fiducia in però nei politici per mario draghi ormai possiamo dire è il passato tra i politici attuali in testa abbiamo giorgia meloni con il 43 per cento facendo registrare più 9 per cento rispetto allo scorso settembre in pratica ai livelli del miglior mario draghi da questo punto di vista bene anche giuseppe conte che è salito al 33 per cento con un incremento di più 6 per cento la forza del reddito di cittadinanza alle sue spalle sono sostanzialmente appaiati silvio berlusconi con il 22 per cento che passa davanti al capitano della lega matteo salvini con il 21 per cento e dietro abbiamo carlo calenda con il 19 per cento mentre enrico letta crolla al 15 per cento meno 5 per cento povero enrico non se lo fila più nessuno vai enrico vai a fare un altro video e sparla della nostra italia all'estero comunque lui è considerato il principale sconfitto della tornata elettorale fratelli d'italia ha un balzo enorme di 0,7 per cento ed è al 27,5 va dritto dritto secondo i modelli statistico matematici le proiezioni vanno verso il 28 per cento mentre il pd partito democratico quelli che si definiscono democratici stanno per essere superati anche dal movimento 5 stelle perché i dem sono crollati dello 0,6 per cento e sono scesi al 17,5 per cento e sorridono i grillini che sono saliti al 17 per cento guadagnando uno 0,5 per cento a dimostrazione che del fatto che si stanno mangiando i voti del pd perché conte traina il il movimento 5 stelle allora ci sono due fattori c'è da una parte il voto di scambio del del reddito di cittadinanza che porta i grillini a delle cifre alte poi quando un partito ha delle cifre alte come vi ho detto all'inizio l'effetto carrozzone la gente comincia a dire ma insomma in più c'è un leader giuseppe conte che rispetto a enrico letta è molto più aggressivo molto più propositivo a delle proposte che vi piacciono no lui propone dice facciamo la settimana corta il salario minimo mentre l'altro enrico letta parla solo ed esclusivamente di gli ussoli gli uscole e vamos a scuola andiamo tutti a scuola bene risulta un leader più completo il giuseppe nonostante poi vi racconterò sia andato a sparlare anche lui all'estero dell'italia quando si dice che la sinistra sia anti italiana e insomma si possono portare delle prove concrete intanto sotto questi partiti abbiamo molto più indietro la lega che lì ferma all'otto virgola tre per cento a poca distanza potrebbe avvenire il sorpasso che in altri sondaggi è già avvenuto di calenda con italia viva che sono all'otto per cento quindi azione italia viva sono in crescita perché la gente sta si sta spostando dal pd a calenda o al movimento 5 stelle gli elettori del pd avete visto che dai sondaggi attuali dicono che chi ha votato pd il uno su tre oltre il 30 per cento l'ha fatto perché odia la destra non per letta o i programmi che non ci sono nel pd ma lo ha fatto solo perché odia la destra no un po come vi ricordate il puffo brontolone io odio la destra ecco insomma e poi vedrete che il pd si svuoterà e gli elettori andranno ad azione e renzi più che altro ad azione di calenda perché calenda sarà sicuramente questa è la mia previsione che lo ve è lui è lui il futuro concorrente alla presidenza del consiglio che sfiderà meloni del centrodestra è proprio lui carlo calenda e silviuccio caro che fine ha fatto è al 7,4 per cento lui che deve mettere per forza licia no chismi chismi licia vabbè insomma parte gli scherzi lui deve mettere licia come ministro chi è licia licia ronzulli europarlamentare ex infermiera laureata in infermieristica che lui voleva fargli fare il ministro della salute perché è perché la sua è una delle sue favorite e vabbè caro silvio caro silvio sei completamente sceso nel nelle grazie degli italiani negli anni 90 eri quasi una leggenda per gli elettori di centrodestra quando lo vedevano c'erano i cori silvio 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 no e lui sulla macchina che salutava adesso cerca di mettere licia ronzulli come ministro vabbè insomma la parabola di berluscao meravigliao è arrivata alla fine ai titoli di coda e nei titoli di coda passa il nome licia ronzulli vabbè che vi devo dire vi saluto e ci vediamo al prossimo video